BELLA VECCHI TRAPANI SEMO I GRANALSES Siamo tornati qui con un nuovo video Oggi un pack opening Che non faremo su fifa Ma faremo su questo sito che si chiama UTcoinbets Bets perchè questo sito permette anche di fare Delle scommesse Oggi non volendo ci siamo vestiti tutto di rosso Che carini perchè siamo in tema natalizio Siamo qui per aprire questi pacchetti E per farvi vedere rapidamente come funziona Quella cosa delle scommesse e quei crediti Potrete scommettere Potrete scommettere Così sulle partite Però con i crediti Potete comprare i crediti all'interno di questo sito E poi con i crediti Potete decidere appunto O se farmi mandare direttamente sulla playstation E giocarci e comprarci i giocatori su fifa Oppure se scommetterli qua Quindi che ne so Fate così Serie A Juventus Milan c'è sta Scommettete sulla vittoria da Juventus Ci mettete la console che è playstation E scommettete Se avete shoppato 10.000 crediti Scommettete 10.000 crediti su a Juve Se la Juve vince Le vince le vince le 14.000 Ovviamente perchè la Juve è più quotata Che vince contro il Milan Però che ne so Se mettete il Milan vincente Ovviamente non potete giocare Milan vincente o vincente Perchè siete dei coglioni Se lo fate Se mettete il Milan vincente E giocare 10.000 Ne vincete 52.000 Nel caso in cui il Milan vince Quindi vabbè So come le scommesse normali Per me vince il Milan Forse X Secondo me Io infatti Appiazziamo una scommessa sull'X Giocamosi 5.000 sull'X Dai Olè Andata Sbam Ovviamente Noi vi stiamo consigliando questo qua Perchè non è con i soldi veri Se non siete maggiorenni Non potete giocare con i soldi veri Quindi se volete comunque scommettere Questo qui è fatto Diciamo anche per i migliori Vabbè Tanto andiamo a fare Questo pack opening Della Playstation L'idea è di partire subito Col pacchetto da 100k Proprio così Sì però la voglio La prima Vai 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 100.000 Vai Vai che sto Oh Un if Oddio Che cazzo Mustafi È buono 55.000 Ma vaffanculo 55.000 Tutto il valore del pacchetto Per 100.000 Spesi Vabbè Non ci hai dato benissimo Sto pacchetto Dai Adesso noi abbiamo 950.000 Ovviamente Perché 100.000 Ce l'ha scalati Però ce ne ha dimessi 55 Esatto Ma non ce l'abbona Vai Ma non ce l'abbona 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 Oh Oh Vericish 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 Incredibile Valore del pacchetto Però 68.500 Quindi non ci siamo Di pensi ancora di 100.000 Ma abbiamo trovato Strutman Manca un if Cazzo Che è Che è Aspetta però Camus Rodriguez 90.000 147.000 Decreti Dai Ci siamo rifatti di prima Sono troppo forte De Cristo 90.000 Camus Rodriguez E poi Lucas 26.000 Quindi Diciamo che ci abbiamo guadagnato parecchio Questo Questo pack Perché abbiamo guadagnato 47.000 Quindi adesso Il La nostra Il nostro bilancio È 966.000 Però abbiamo aperto già tre pacchetti Quindi ci siamo divertiti E ci siamo sotto di pochissimo Un aperto Attenzione Manca un if E dai cazzo Vabbè però Fabregas Cazzo 44.000 92.000 Diciamo che l'abbiamo aperto Ma magari è troppo solo È un pacchetto del genere L'abbiamo aperto quasi gratis Questo pacchetto Dai Vediamo questo Vediamo questo Un if L'ho spiutato Attenzione Ma vabbè Che cazzo Però vale 31.000 Anche questo quasi gratis Quasi gratis Sì Stai elaborando Perché ovviamente Non si aspetta Uno che ne compra i 5 Ok Ci sono tutti C'è 5 regà Cioè proprio così Pabababababababam Oh Basigliano Dalazio Landersson Oh mio Dio Oh guarda quanto Amore addobbiato Oh che doia 119.000 Landersson E' una bestia rara L'ho visto l'altro giorno Lui e Rodriguez Vargono 1.000 insieme Attenzione Oddio Modric E dai Luis Oh regà 148.000 totali Stiamo a guadagnare una cifra Però chi è che c'è la mano fatata Stiamo a 7.22 con 3 pacchetti Quindi in teoria siamo a più di un milione adesso Cioè uno qua dovrebbero puntarlo a Messi Perché con Messi quel boom Guarda siamo più di un milione Se fai il calcolo 300.000 più 722 Fa un milione e 22 Quindi già abbiamo guadagnato 22.000 Un altro if Brasigliano Del Valencia Del Benfica Jonas 24.000 David Ruiz E poi perché Osvaldo Ma perché Osvaldo da quando è che sta al porto Ma dai dove sta al porto Che cazzo Oh Ancora un if Francese Non è ragazzo Pjanic Benarfa 111.000 Altri 11.000 Guarda andiamo Si va sopra di nuovo E si va a comandare Mamma mia Ammazza che infame Oh Dio scusa Non l'ho fatta apposta Ma fa un culo È stata una merda Vedi Questo fa schifo Marchisio però Regà 38.000 Che si dì che sei una merda 44.000 Vabbè può vedervi E con balance C'abbiamo un milione E 17.000 Ci siamo dirti Abbiamo aperto Tipo già 10 pacchetti Si E siamo sopra Di 17.000 Cristiano Aprilo Aprilo Due if Oddio Oddio Del PSV No Dacci tua Degli onghi Andrè Andrè Quindi la fine è una merda Si Andrè è cagato 56.000 Vabbè dai Apri ancora Tocca a me Vai zitto Che schifo Oh Aspetta Lo vedi Ancora Che cazzo No è sempre Andrè Andrè Un'altra volta Andrè Andrè Però if del portogallo Andrè Andrè Che cazzo Si però è gcm E poi vedi che non è lui Ancora vai Oh devo recuperare i crediti Cazzo Attenzione un if Francese Oddio È Rémi È Rémi No è Zuma Dai lo cammino No Oh sei una merda Su Vai vai Ancora un if Ancora un if Oh aspetta È Aurier Ah 60.000 97 Vabbè dai questo Più o meno dai E Polorski Tutti insieme Sarà il bello figo Tata Boh è buggato Boh lascia i mezzi Eccolo Oh 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 È sempre lui È sempre Zuma No è remista No è Zuma E Falcao Che Falcao costa di meno qua Si su Xbox costano diversamente Ho buggato rega C'è un coglione Ma vedi che non lo devi fare Ho buggato veramente Pirla de merda Certo Non è vero Che cazzo Niente di che qua Aspetta forse Ah ecco Ti ha guardato la scossa Ho buggato Eccolo Ci rida a tutti Dai Si si Oh che coso Kagawa Vabbè Magari Si guarda Aspetta 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 Oddio Mamma mia Mamma mia È Cricoviac Oh però c'è l'unico pacchetto Che è andato sopra Boateng Ho usato Boateng e Cricoviac Ma che cazzo stai Non ci siamo accorti Tutto ciò Ma quanto è forte il Boateng Vabbè Non ci rida dai Ma che non ci rida un cazzo Non hai capito Sei un coglione Basso Ce l'hanno mandati pure paro Guarda Io voglio spacchettare ancora Io voglio trovare Vabbè rega Pistoccio abbiamo ancora 798.000 sulla Playstation 899 su Xbox Se questo video è piaciuto Lasciamo 5.000 like In descrizione c'è il link Di questo sito E se vi è piaciuto Niente Se vediamo che Lasciate i like Ne faremo un altro I back of the link Sempre di questo sito Dai Granans È tutto Ci becchiamo al prossimo video Come sempre Bella Ciao 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 ciao